Senza parlare di calcio non mi è piaciuto il nostro comportamento. Le ho detto ai giocatori dopo, non subito dopo la partita perché ero ancora a digerire, a pensare e a vedere e cercare di guardare anche in video la partita. Ho visto che non abbiamo sceso in campo, a di là della qualità e della forza che possa avere una squadra come la Fiorentina. Sono convinto che possiamo fare molto meglio di quello che abbiamo fatto e i giocatori sono consapevoli che questa partita non l'abbiamo fatta nel modo giusto. E mi aspetto sicuramente un'altra partita domani. Giocare a calcio è un sport interessantissimo perché come abbiamo visto in tante partite non sempre vinci quella più forte. Però per affrontare una partita ci deve mettere tutti gli ingredienti dentro al campo e noi questa partita non l'abbiamo fatta. Ripeto, per domani sono sicuro che vedremo un altro tipo di partita già per l'avversario che affronteremo ma anche per il nostro approccio alla partita. Quello che aspetto e quello che voglio dai miei giocatori è sempre la stessa cosa. Loro lo sanno dal primo giorno e questa settimana abbiamo avuto l'opportunità di rinforzare quello che abbiamo bisogno. E' semplice, ognuno deve dare il suo massimo. Se oggi ce l'ho il 30% lo do il 30%, per me non è un problema. Se ho il 120% oggi lo do. Se ho solo 10% lo do il 10%. Però se ho il 100% e do il 95% per me non va bene. E questa è una squadra di calcio e in qualsiasi lavoro è la stessa cosa. E sono delle cose semplici che abbiamo già dal primo giorno parlato. Abbiamo avuto l'opportunità di rinforzare questa settimana. Ho dei giocatori molto responsabili che sanno dove sono, quello che mi aspetto, quello che si aspetta da un giocatore da una squadra come l'Espezia. Sicuramente domani vedremo un altro tipo di partita. Il punto di vista tattico l'affronteremo come sempre. Penso che è un qualcosa nel calcio importante, ma non direi la cosa più importante perché ci sono tante altre cose nel calcio che contano. E la base è quello che stavo parlando prima. Ognuno per il bene del gruppo, per il bene della squadra, dare il suo massimo. E a livello tattico lo vedremo domani. Sappiamo che troveremo una squadra davanti, come hai descritto benissimo. Una squadra che è forte, che sta in un buon momento. Che gioca sull'uomo, che cerca il duelo, che ogni tanto può essere anche una squadra molto aggressiva. Noi dobbiamo essere pronti per affrontare questi tipi di partita, che non sarà solo con il Torino. Ci sono altre che saranno più o meno le stesse. E' come se Torino è domani, è quella più importante. Dobbiamo essere, non domani, già dall'inizio della settimana, pronti a affrontare una buona squadra. Dove noi abbiamo le nostre possibilità sicuramente, facendo quello che sappiamo, il nostro gioco. E cercano di difendersi insieme e attaccare insieme. Vedo Estrele che lavora, che attacca, che difende, che partecipa durante i 90 minuti quando gioca. A di là delle situazioni in campo che lui ha saputo, ha riuscito a risolvere con un gol o con un passaggio. A di là di questo, per me sono giocatori che per la squadra hanno fatto un buon lavoro. A livello individuale e a livello sicuramente per il gruppo. Il Salcedo è la stessa cosa. Il Salcedo è arrivato da noi, tarde come non ha fatto dall'inizio. Poi è un giocatore che è andato la prima in primavera a giocare perché non si stava adattato a quello che volevamo noi. Dopo quella partita lì si è messo a disposizione, si allenava bene. Le partite che ha fatto lo ha fatto bene, anche con il Genua, anche con le altre partite che ha fatto nel mio punto di vista. Lo ha fatto bene e si sono meritati di giocare e sono contento del loro lavoro. Non vuol dire che domani giocano perché alla fine noi cerchiamo di vedere sì quello che fanno in allenamento, però cercando anche in funzione dell'avversario come si metteremmo in campo. Magari per la qualità di un giocatore deve giocare una partita, un'altra la deve aspettare. Però ti dico che sono molto contento del lavoro di Davide Estrele che è di Elis Salcedo. Sì, è una possibilità di entrare perché è dentro al gruppo e si è allenato bene. L'altra partita ha giocato 45 minuti anche se non era previsto per il suo ritorno con il gruppo dopo un infortunio. Come tutti gli altri convocati ha la possibilità di giocare. Non ho ancora deciso, non ho ancora deciso gli undici che entreranno dall'inizio, però è una possibilità che giochi in sala. Distaccata è difficile da dire perché tutti lo sentono. È normale che sia così, è giusto che sia così. È giusto che i tifosi in questo momento possano avere questa sensazione perché alla fine prendere tanti gol e soprattutto non entrerei a prendere tanti gol se no è nei momenti o nelle partite che potevamo prendere dei punti e non l'abbiamo preso perché ci sono altre squadre che magari hanno fatto, non lo so, non tantissimi gol, hanno preso qualche gol in più di quello che meriterebbe e hanno preso dei punti. E quella è la cosa più importante. La cosa più importante non è se fai o non lo fai, la cosa più importante è alla fine con questi gol presi, con questi gol fatti, quanti punti hai preso. Noi per me non abbiamo preso quelli punti che abbiamo anche meritato in certe partite e se devo avere qualcosa a pensare nel senso di cambio è in quel senso. Sicuramente quando non prendi gol un punto ce l'hai, però se pensiamo a giocare una partita così sicuramente non prendi nemmeno quel punto lì, l'abbiamo visto contro la Fiorentina. se una squadra vuole stare indietro e non attaccare, pensando che sia sufficiente, non andiamo da nessuna parte. Qual è il mio modo di vedere? Noi dobbiamo attaccare l'avversario, dobbiamo cercare di mettergli in difficoltà e alla fine vedere con i gol fatti e presi quanti punti abbiamo. Alla fine è quello che conta. Sì, Ristoff no. Pecco già a Firenze si aveva riscaldato con la squadra, sapevamo che non stava al 100%. Un ragazzo che dall'inizio della stagione ha fatto quasi tutte le partite, non solo da noi, anche in nazionale, perché sempre che è andato di là la prima volta ha fatto tre partite, la seconda due, è tornato, è giocato sempre titolare, ogni tanto con qualche problema fisico, ma lui è un ragazzo positivo, un ragazzo che non ha paura, è un ragazzo che ha una voglia, una fame straordinaria, come si deve essere per un giocatore di calcio. Contro la Fiorentina ha fatto il riscaldamento, non si trovava bene perché ha questo problema l'adutore. Questa settimana si è allenato poco, abbiamo provato ieri, abbiamo provato oggi, non sta al 100%, perché lo sente ancora, io lo vedo come un infortunato oggi. Lo vedo come un infortunato perché non lo possiamo utilizzare domani come magari si vorrebbe e preferisco non prendere nessun rischio e perderlo per magari due mesi. Oggi per me è un giocatore che è infortunato, deve recuperarsi e vediamo per la partita contro l'Atalanta se sarà disponibile o no.